sono venuta a tunisi per lavorare aprirò il mio studio sul tetto uno studio di psicanalisi qui a tunisi non voglio dei pazzi in casa mia ho bisogno di un certificato per il lavoro non sono un medico non do certificati né medicina allora che serve scusa ho sognato saddam hussein poi assad solo dittatori arabi tutte le volte sono io che li faccio buonasera ha la licenza per esercitare la mia pratica stavo dicendo lei credo che sarà accettata inshallah inshallah la prego sì o no te l'ho detto inshallah grazie grazie